Alessandro D'Alecco E' un po' di malizia, cosa ne pensate? Io metto una piccola parentesi Anche da parte dell'allenatore Oserei dire, perché io ricordo Una prima puntata La nostra ospite ha detto No, no, assolutamente Conte ha esperienza internazionale No, l'esperienza non ce l'ha Che poi lui sia un grande allenatore, va bene Questo siamo d'accordo Forse si riferiva all'esperienza internazionale Quando era giocatore Ah beh, quello me lo ricordo anche io Evidentemente Come allenatore non si può dire Non può pensare ad altro Perché allenatore E' stato ad Arezzo E' stato a Bari Ed è stato a Siena E' a Bergamo E' a Bergamo Per pochi mesi Per cui lì Squadre che sicuramente Le coppe non le facevano Per cui il riferimento era sicuramente All'esperienza internazionale Infatti io Chiaramente Questo me lo ricordo Però a livello proprio così Come allenatore Non gli manca Con quel briciolo di malizia Per l'Europa? Io non credo Non credo assolutamente Quello che credo io È che la Il discorso Faceva il nostro Il nostro ascoltatore Il nostro traspettatore È giusto Nel senso che a livello di gioco La Juve Non ha mai sfigurato Neanche con il Real A Madrid Secondo me Ha fatto La figuraccia Che ha fatto Il Galatasaray Ieri sera Il problema è Che a parità Diciamo Di gioco In Champions League Più che in campionato Contano i singoli Allora c'è Cristiano Ronaldo Che in una partita Dove il Real Non gioca Si inventa il gol E ti fa vincere la partita La Juve Aveva questo problema Di mancanza Del giocatore Risolutivo Quest'anno Con Llorente Pogba E Tevez Anche se Tevez Non ha mai segnato Ovviamente Su 4 anni Che non segna Da un input Secondo me Questo gap È stato un pochino Superato Il famoso top player Perché poi alla fine Il top player Per i tifoni È quello che fa gol Esatto E il Cristiano Ronaldo Della situazione Che magari Ci cambia Ce n'è uno di Cristiano Ronaldo Chiaramente Tevez è un grande lavoratore Però Con tutto ciò È uno che C'è sempre Sulla palla Ma Tevez Funziona benissimo Certo Funziona benissimo Perché Perché I compagni Si fidano di lui Lui dà la palla Contribuisce a far girare il gioco Per cui è sicuramente E a toglierla È ben dura La palla Lui si giostra Bene Anche il fisico Forse sarà Perché Tipo è È bello tosto Allora Leggo ancora una mail Poi le altre Le leggiamo Nel prossimo blocco Maurizio ci scrive Finalmente la Juve Ha ottenuto la sua prima vittoria Nel girone di Coppa Che tutti attendevamo La prudenza Che la squadra mostra Nell'affrontare queste partite Anche con avversari Non e Chelsea Fa comprendere Sia l'importanza Della posta in gioco Sia le titubanze Derivate Dalle difficoltà Incontrate Nelle precedenti partite Del girone preliminare Dopo cinque partite disputate Sei punti Nove gol all'attivo E otto al passivo Secondo posto nel girone Si può E si deve fare meglio La Juventus Deve fare meglio Un accenno Dice alla prossima partita Di Coppa Presentarsi a Istanbul Con il vantaggio Di avere a disposizione Due risultati su tre È importante Anche se non sarà Comunque una passeggiata Come dicevamo prima Chiaramente sarà Clima infuocato Eccetera Però prima di quella Fondamentale partita Ci sarà il prossimo impegno Con l'Udinese Al cospetto appunto Di tanti giovani fanciulli Senza entrare nel merito Delle motivazioni Che hanno portato Alla chiusura dei settori E alla decisione In deroga Di aprire i medesimi Alla presenza dei bambini Su iniziativa della società La partita assume Particolare importanza Non solo per il risultato E per la prestazione Che non sono mai secondari Ma per la novità Del pubblico Arricchito da un ventaglio Di giovanissimi Davanti ai quali Si impone di fare Bella figura Sotto ogni aspetto Quindi anche a livello Di evitare certi falli No magari Guarda Se posso dire la mia I giocatori Se ne strafregano Che ci siano i bambini Non i bambini Non gliele puoi fregare De meno Perfetto Ecco Se devono entrare Entrano Se non devono entrare Entrano Se devono farti il gestaccio Se lo fanno Poi diranno Scusate la transagonistica Ma io sono d'accordo Perfetto